Parrebbe proprio di no. Almeno, secondo Samuel Huntington, la globalizzazione culturale evolverà in futuro in uno scontro di civiltà. E gli indica nel mondo attuale nove civiltà distinte che non sono tra loro omogeneizzabili, integrabili. Una civiltà occidentale, una civiltà cristiano orientale di tipo ortodosso, una civiltà latinoamericana distinta da quella occidentale, una civiltà islamica, una civiltà hindù, una civiltà cinese, una civiltà giapponese, una civiltà buddista ed una civiltà africana. Più il mondo diventa piccolo ed interconnesso, più le interazioni tra le persone rinvigoriscono non le parti comuni, ma le differenze. La comunità culturale globale diventa fonte di conflitto. L'integrazione del migrante diventa un boomerang, con le seconde e le terze generazioni. Anche Benjamin Barber, nel suo libro Jihad vs Macworld, un termine creato dalla fusione di Mondo e dall'iniziale di MacDonald, discute riguardo ad una diversa divisione culturale del mondo come fonte di conflitto. Ma in questo caso non abbiamo, come possiamo dire, dei recinti spaziali entro quali avviene la divisione culturale. Il conflitto è tanto più intenso in quanto è interno ad ogni singolo raggruppamento umano. Non so, pensiamo all'Italia. Nell'Italia ci sono delle divisioni culturali profonde. Da una parte c'è il Macworld, che rappresenta un mondo progressista, modellato dalla globalizzazione, che viene totalmente accittata, modellato dalla connettività globale e dalla interdipendenza, che mira a creare una rete globale omogenea commerciale, fatta di mercato, di risorse, di informatica, ma anche di ecologia. Dall'altra parte c'è invece la Jihad, termine simbolico per rappresentare invece un mondo conservatore, fatto di tradizionalismo e di mantenimento ad ogni costo della propria identità. Jihad vs. Macworld mostra un mondo dove le lotte prendono luogo ad un livello sottonazionale. Sebbene molte delle nazioni occidentali siano capitaliste e possano essere viste come paesi del Macworld, le società dentro queste nazioni potrebbero essere considerate forse Jihad e viceversa. Per altri autori oggi invece lo scontro avviene tra i gruppi neoliberisti o anarcho-capitalisti, i movimenti no global e quelli new global. Lo scontro avviene, come possiamo dire, tra gruppi economici e gruppi politici idealisti. Il dibattito è molto acceso e riguarda nello specifico l'effetto della globalizzazione nei paesi in via di sviluppo. Secondo i fautori della globalizzazione, quindi i gruppi neoliberisti o anarcho-capitalisti, essa rappresenterebbe la soluzione alla povertà del terzo mondo, quindi un fatto sicuramente positivo. Secondo invece gli attivisti del movimento no global, essa causerebbe invece un impoverimento, maggiore nei paesi poveri, attribuendo sempre più potere alle multinazionali, favorendo lo spostamento della produzione dai paesi più industrializzati a quelli in via di sviluppo, creando zone franche in cui tutti i diritti umani non sono garantiti e dove i salari sono più bassi. Il tutto senza dare reali benefici alla popolazione del posto, anzi distruggendone buona parte dell'economia locale, che è considerata anacronistica e superata. Dall'altra parte abbiamo ancora i new global, diversi dai no global, che mediano un po' queste posizioni. Asseriscono che uno Stato nazionale, limitato entro i propri confini, non riesce più a dettare regole ad imprese trasnazionali, capaci di aggirare con la loro influenza ogni barriera politica e condizionare le decisioni dei governi anche contro gli interessi dei cittadini che li hanno eletti. Cioè, essi affermano inoltre che il potere di ciascuno Stato nazionale è smantellato dalla possibilità di cui di fatto usufruiscono le imprese di pagare le tasse dove costa meno, giocando sulla sede fiscale. Una delle proposte chiave dei new global è quella di abolire i cosiddetti paradisi fiscali. Gli attivisti del movimento precisano che non sono contro la globalizzazione che reputano comunque un flusso di innovazione inarrestabile e, in fin dei conti, proficuo, ma per un diverso modello di essa. Che porti un incremento che sia più solidale, che tenga più conto delle diversità culturali e che non cerchi di omologare tutto il pianeta sul modello occidentale. È molto criticato il fatto che sia stata attuata in modo selvaggio senza assumere dentro i criteri del commercio internazionale un limite allo sfruttamento delle risorse umane ed ambientali. Cioè propugnano uno sviluppo sostenibile, anche perché spesso le aziende delocalizzano solo per un breve periodo e poi delocalizzano di nuovo dove ancora costa meno. Quindi non hanno interesse alla tutela dell'ambiente in loco né all'armonia tra le parti sociali, alle quali guardano da una prospettiva simile a quella dei colonialisti dell'età preindustriale. Ma addirittura, una volta sostituito il capitale umano ricercato con uno stipendio a basso prezzo appunto nei paesi della delocalizzazione, sostituito questo capitale umano con un capitale in investimento di manodopera robotica, opera una sorta di reshoring e tornano in patria, lasciando nella disperazione tutte le nazioni attraversate. Compresa quella di partenza, nella quale ci sarà una nuova industria con capacità produttive più grandi di prima, ma con un'occupazione notevolmente più ridotta. Quanto durerà questa globalizzazione? Secondo un'attenta analisi delle dinamiche che la innescano, si riscontrano anche aspetti che inducono a ritenere che nel lungo periodo essa potrebbe portare ad una profonda crisi delle aziende occidentali, le quali, per realizzare le proprie produzioni, sono soggette a standard normativi molto alti, sia per garantire i diritti dei lavoratori e sia per tutelare l'ambiente, precondizioni quasi mai presenti negli standard di produzione orientali, in specie al mondo quelli asiatici. Questo disquilibrio alla base dei costi di produzione, infatti, rende i paesi occidentali meno competitivi e considerando che il livello di ricchezza generale tende ad un abbassamento, i paesi che producono a costi bassi in assenza di tutele umane ed ambientaliste avranno molte più possibilità di conquistare mercati prevalendo economicamente. occorrerebbe quindi globalizzare le regole di produzione prima di globalizzare i mercati, se non si vogliono distorsioni e problemi economici e sociali a carattere mondiale. Non a caso, oggi si scontrano due modelli di sviluppo, entrambi capitalistici, quello occidentale a trazione statunidense e quello orientale a trazione cinese. Non sarà uno scontro da poco, questo è certo. Un saluto da Nat Russo. A presto.